Una vera e propria kermesse con super ospiti e soprattutto tante persone, tante quanto gli stessi organizzatori non immaginavano. Ma non c'è dubbio che l'evento meritava, perché non c'è dubbio che a Vibo Valencia l'anno si è chiuso avendo potuto scrivere una pagina di storia. Dopo un'altesa lunga quasi 30 anni, la città ha il suo teatro. Prima dell'inaugurazione ufficiale, il sindaco Maria Limardo, cosciente dell'importanza dell'evento della lunga attesa della cittadinanza, ha voluto organizzare una presentazione che fosse una vera festa, un inno alla cultura che nel teatro trova il suo tempio. Per farlo, ha voluto condividere questo traguardo con quanti in questo trentennio si sono spesi per la sua riuscita. Innanzitutto l'allore senatore, Franco Bevilacqua, grazie al quale si è potuto avere il necessario finanziamento. Quindi i sindaci che si sono succeduti ognuno dei quali ha speso il proprio impegno. Elio Costa, Franco San Marco, Nicola D'Agostino. Maria Limardo, dando prova di sensibilità umana oltre che istituzionale, li ha chiamati a condividere. Mentre al tavolo si è fatta affiancare da coloro che rappresentano da subito la fase operativa che consentirà al nuovo teatro comunale di essere operativo da subito. La vicepresidente della regione, Giuseppe Princi, il vicepresidente dell'Orchestra Sinfonica della Calabria Alberto Veronesi, il direttore generale del Teatro Parioli di Roma, Michele Gentile. Questo perché il teatro di Vibo Valenzi è già inserito nella rete dei principali teatri della regione, perché il teatro sarà la sede ufficiale dell'Orchestra Sinfonica, e perché con il Teatro Parioli si avvia sin da subito una collaborazione che garantirà, sotto la guida artistica di Angela Finocchiaro, una cartellone di assoluta alta qualità. Oggi si è segnata una pagina storica per la città. È un momento memorabile, un momento che ho voluto condividere con chi prima di me ha lavorato perché tanto potesse essere realizzato. Diciamo che io per certi aspetti metto il bignè su una torta, possiamo dire così, e certo che ho voluto condividere come era doveroso da parte mia questo risultato che è straordinario anche con chi mi ha preceduto. Non c'è dubbio io ho lavorato, ho lavorato molto, soprattutto negli anni del Covid, negli anni duri di questa città, e oggi consegniamo alla città una opera che si aspettava da 30 anni, perché è da 30 anni che manca una sala teatrale, non perché abbiamo impiegato 30 anni a costruire questa struttura naturalmente. Ed è stato un momento bellissimo che la città sia pronta, che anzi ci fosse un momento di reale tensione culturale al bello, lo si è percepito in maniera palpabile da come ha risposto la popolazione anche senza essere stata invitata. Qui oggi c'era di tutto, c'erano i cittadini semplici, c'era il teatro amatoriale, c'erano le collaborazioni che abbiamo voluto assumere sin da subito, c'era il territorio, c'eravamo tutti, tutti insieme a condividere quello che è stato certamente un momento di gioia, un momento di soddisfazione, un percorso lungo, faticoso, travagliato, ma che proprio per questo oggi godiamo ancora di più. Buongiorno, buongiorno a tutti. Innanzitutto auguri per un 2024 meraviglioso, vabbè possiamo anche dire normale, se fosse normale già per me non sarebbe male visto tutto quello che succede, ma soprattutto auguri per l'apertura di questo teatro, una cosa meravigliosa. Io di solito vedo che i teatri si chiudono, in questo caso se ne apre uno, ha quasi dell'incredibile. Un regalo magnifico per tutti i cittadini di Vibo e per noi, è come una nuova casa, una nuova casa, bellissimo, veramente complimenti. E beh, speriamo che il nostro spettacolo sia all'altezza e che poi non si dica l'abbiamo aperto per questo, allora forse è meglio che lo richiudiamo, magari con la finocchiala dentro così siamo sicuri che l'abbiamo eliminata. Auguri, un bellissimo lavoro, grandi, grazie, grazie di cuore. Cosa chiedere di meglio? Cosa chiedere di più? La guida artistica di Angela Finocchiaro e il rapporto stretto con il Teatro Parioli di Roma garantiscono un avvio eccezionale per il nuovo Teatro Comunale di Vibo Valencia. Dopo la cerimonia inaugurale che vedrà protagonista l'Orchestra Sinfonica della Calabria, il calendario degli appuntamenti è già fissato. Si apre con il duo Ale e Franzi il 14 febbraio, a seguire Paolo Ruffini e Massimo Ghini il 7 marzo, quindi l'evento con Diego della Palma il 12 aprile e la chiusura con la stessa Angela Finocchiaro. Ma l'aspetto più importante e straordinario del rapporto insauratosi con il Teatro Parioli è ben altro ancora e di prospettive che guardano al futuro del territorio e dai giovani, come spiega il direttore generale Michele Gentile. In un periodo storico come questo aprire un teatro è davvero un fatto importante? È un unicum, anche perché io ho quasi 60 anni, ho vissuto tante ristrutturazioni di teatri, ma io a me, a mia memoria, non mi ricordo un teatro nuovo, costruito dal nuovo. Quindi secondo me è una cosa importantissima e soprattutto è una cosa importantissima perché questo succede al sud d'Italia e quindi è una scommessa in più perché così si tolgono pure tanti luoghi comuni che circolano insomma. Quindi siamo contenti ed emozionati del fatto che c'è una nuova casa per tutti noi che facciamo questo mestiere. Nasce anche un rapporto di collaborazione subito con voi del Teatro Parioli e questo nuovo teatro di Vibo Valencia? Certo, io credo molto nelle collaborazioni, noi vogliamo mettere su un progetto che vada anche oltre il portare qui qualche spettacolo ma vogliamo che questo teatro viva, vogliamo investire sulla formazione, vogliamo che sia anche una casa che possa dare opportunità ai giovani calabresi di lavoro, di conoscenza e quindi credo che si possa fare un bellissimo lavoro, poi avete un sindaco che è molto determinato e praticamente è impossibile di dire no, quindi siamo contentissimi insomma.